Disney diceva una frase molto bella, se puoi sognare puoi anche farlo. E credo che questo racchiuda tutto il suo mondo, l'ottimismo di cui parlavo prima, la convinzione che si possa affrontare qualsiasi cosa. Anche noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare qualcosa del genere quando abbiamo iniziato, ci si credeva, facevamo delle cose perché eravamo convinti di dire qualcosa di nuovo. Ecco, questo credo che sia un po' la cosa più importante, sentire di star dicendo qualcosa di nuovo, cosa che oggi è diventata molto più difficile perché c'è una tale abbondanza di materiale in circolazione che raccontare, creare qualcosa di nuovo è sempre più arduo. Lui in quel momento lo sentiva a ragion veduta perché era proprio il primo a realizzare dei lavori del genere a livello di lungometraggio e anche nei cortometraggi. E quindi la sua convinzione era giustificata, però il bello di Walt Disney è che l'ha mantenuta per tutta la vita, cioè lui ha saputo mantenere questo ottimismo dall'inizio della sua vita, della sua carriera sino ad oggi e questa è la cosa più bella che gli riconosco. Vento dall'est, la nebbia è là, qualcosa di strano fra poco accadrà. Signore e signori abbiamo iniziato la discesa su Los Angeles. Benvenuta signora P.L. Travers nella città degli angeli. C'è come odore di... Gelsomino. Verichina. E sudore. Vi presento l'ideatrice della nostra amata Mary. Poppins. Mai e poi mai solo Mary. E dov'è il signor Disney? È arrivata. Ebbene, Pamela Travers. Lei neanche immagina quanto io sia contento finalmente di conoscerla. Mi dispiace, il mio nome è signora Travers, signor Disney. Oh, Walter deve chiamarmi Walter. Vent'anni fa ho promesso alle mie figlie che avrei fatto spiccare il volo alla sua Mary Poppins e dalle pagine dei suoi libri. Io gliel'ho promesso, Pamela. So bene che farà di lei. La ridurrà una tutta salteglia e scintillina. Non può fare il film se non gli c'è dei diritti. Occidente. Dunque, allora, cominciamo. Fate. Lei ha un sacco di idee. Che tipo di idee? È una gente immobilente. No, 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 no. No, 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 no. Immobilente. Non è una parola. L'abbiamo inventata. Beh, disinventatela. Lei non approva Dick Van Dyke. No? No. Casa Banks non è così. È tutto sbagliato. È tutto sbagliato. Basta. Mary Poppins non è in vendita. Non permetterò che diventi uno dei suoi sciocchi cartoni. Dice la donna che ha mandato una tata volante con un ombrello parlante a salvare dei bambini. Secondo lei Mary Poppins è andata a salvare i bambini? Oh, cielo. Signora Travers, di che si tratta? Mi chiedo che devo fare per renderla felice. Cioè, lei non è mai stata a Disneyland, è il luogo più felice della Terra. No, 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 la prego. A chi capita di visitare Disneyland con Walt Disney in persona? È proprio lui. Da dove è arrivata? Mary Poppins e i Banks sono la mia famiglia. Mary Poppins era una persona vera. Non sono i bambini che lei viene a salvare, ma il padre. Suo padre. Non sa quanto lei sia importante per me. Non la deluderò. Giuro che ogni persona che entrerà in un cinema, gioirà. Lei non vuole chiudere con la sua storia? I ragazzi hanno avuto un'idea. Credo che la farà felice. Non mi avrà portata qui per dirmi questo? Oh, no. Ho scommesso che l'avrei fatta salire sul cavallo. Ho vinto 20 bigliettoni. Yeah!